siamo qui ed è martedì e lo so a che cosa state pensando ragazzi ho sbagliato a regolare il rasoio e questo è il risultato lo so lo so ma tranquilli due giorni di solito la barba mi cresce subito tra l'altro oggi mi taglio pure i capelli quindi look cambiato al 100% va bene dai parliamo di cose più importanti rispetto a queste che per fortuna sono secondarie dato che è soltanto una situazione temporanea non mi sento tanto bene mi sento molto molto giovane qualcuno ieri sera su instagram mi ha detto che sembro Morata e allora di Morata cerchiamo di parlare all'interno di questo video in realtà mi sono fatto questo look semplicemente in ricordo di Alvaro Morata in onore di Alvaro Morata per agganciarmi all'interno del video allora Atletico Madrid l'Atletico Madrid dovrebbe essere la squadra principale di questo video perché come vi ho già anticipato andremo a parlare di Alvaro Morata che cosa succede intanto sembra che la Juventus abbia presentato una nuova offerta all'Atletico Madrid di questa cosa ha parlato pure Sky Sport ieri sera questa nuova offerta dovrebbe vedere coinvolti 15 milioni di euro di parte fissa 6 milioni di euro di parte bonus legata al riscatto di Alvaro Morata che vorrebbe rimanere la Juventus Allegri lo vorrebbe trattenere come vicevlaovic come giocatore da inserire in attacco come calciatore che Allegri conosce benissimo che ha allenato tanti anni e che sicuramente non sarebbe un problema all'interno della Juve dell'anno prossimo io lo ribadisco l'ho già detto tante volte io Morata lo tratterrei 35 milioni non li spenderei mai nella vita perché sono convinto che con quella cifra si possa fare decisamente meglio quindi questa dovrebbe essere la prima offerta ufficiale presentata dalla Juventus all'Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata rimango dell'idea che di fronte a queste cifre l'Atletico dirà di no ma io sono abbastanza convinto che alla fine l'Atletico dirà di no per un ragionamento molto semplice se io non faccio minusvalenza con Morata sui circa 30 milioni di euro contando anche i 20 che la Juventus ha già pagato per i due anni di prestito allora io delle due mi riprendo Alvaro Morata se sono l'Atletico lo tengo lì ascolto le offerte provenienti dall'altri club si è parlato dell'Arsenal si è parlato del Barcellona che lo voleva già a gennaio adesso addirittura sarebbe venuto fuori il Newcastle che sappiamo ha una proprietà nuova e inedita che va a pagare molto i calciatori e che sta cercando calciatori di un certo livello sul mercato anche solo a livello di nomea e quindi potrebbe essere una squadra interessata ad Alvaro Morata che andrebbe a tornare in Premier League dove non ha fatto decisamente bene con la maglia del Chelsea ma questa potrebbe essere una nuova avventura e ascolto le offerte e gli dico oh ragazzi però costa 35 gli altri non devono mettere in preventivo il fatto che la Juventus abbia già versato 20 milioni per il prestito e che quindi vada a sommare il tutto ma al di là di questo probabilmente anche solo a 35 milioni di euro ora come ora non lo prenderei è ovvio che se penso a 35 milioni complessivi quindi 10 più 10 più 15 per i tre anni quindi i primi due più questo qua del riscatto sapendo che ho fatto anche già due anni è tutto un altro discorso quindi secondo me 15 milioni è il valore giusto per Alvaro Morata dicevamo Atletico Madrid che a quanto pare è tornato in corsa anche per Paolo Di Bala e quindi il rischio se così vogliamo chiamarlo è che Di Bala e Morata possano ritrovarsi ancora una volta insieme nella stessa squadra anche solo momentaneamente anche solo per l'inizio della preparazione estiva che non sarà la Juventus ma potrebbe essere addirittura proprio l'Atletico Madrid di Simeone padre del ciolito che era stato identificato come potenziale vice Vlaovic guardate che collegamento fantastico l'Inter e Di Bala dovrebbero incontrarsi già in questa settimana probabilmente dovrebbe esserci una sorta di chiacchierata sappiamo bene che l'Inter non è che stia navigando nell'oro e che probabilmente dovrà fare almeno una cessione importante come ha fatto comunque anche l'anno scorso come ne ha fatte addirittura due da campione di taglia in carica quindi non oso immaginare quest'anno cosa debba fare e poi potrà firmare i contratti di alcuni giocatori importanti come Mkhitaryan e come Paolo Di Bala ma se questa cosa dovesse andare per ore lunghe ecco l'inserimento dell'Atletico Madrid interessato a Paolo Di Bala che Atletico Madrid già ieri sera avevamo nominato come squadra potenzialmente interessata ad Angel Di Maria allora è un bel casino nel senso che ieri sera vi parlavo di negatività mia personale legata al nome di Di Maria e già nella giornata di oggi questa cosa viene confermata perché Romeo Agresti l'ha detto chiaro e tondo sì il Barcellona è interessato a Di Maria ma il Barcellona anche qua ha dei problemi a livello finanziario sappiamo c'è un salari capo interno inerente alle squadre della Liga quello che l'anno scorso ha allontanato Messi dal Barca ed è per questo che non lo specializzano che sì Christensen per questo non possono affondare su Lewandowski ma Di Maria è un altro di quei nomi che sta circolando copia in colla della Juve però non è che Di Maria può stare qui in giro e aspettare un milione di anni Di Maria come da essendo un parametro zero dovrà cercare di definire il suo futuro il prima possibile e dato che il 30 giugno scade il suo contratto con il PSG e dato che il 30 giugno è praticamente l'inizio di una nostra giornata perché inizia il calcio mercato, inizia la preparazione un mese e mezzo dopo si gioca cioè ragazzi tra 40 e 30, 70 giorni ci torna in campo non abbiamo ancora la squadra noi in questo momento, 70 giorni questo è un video che farò più avanti infatti ma rimaniamo concentrati sull'atletico e quindi ieri vi dicevo questi nomi di squadre spagnole top team, top club europei diversi dalla Juventus secondo me non sono così distanti dalla realtà e oggi abbiamo avuto la conferma Gazzetta, un articolo firmato da Fabiana della Valle dice che la Juventus è interessata ad alzare l'offerta per Di Maria si alza la parte inerente ai bonus si abbassa quella fissa perché l'idea è sempre quella di fare un anno di contratto dato che Di Maria vuole un anno e quindi la Juve sta cercando di capire come farglielo quest'anno di contratto sicuramente non alle condizioni iniziali che le avrebbe garantito per due dato che avrebbe pagato meno tasse a quel decreto crescita adesso conto alla veloce due anni di Di Maria costano come uno bene o male forse costa un pochino di più due ma non di tanto però capite che è il doppio quindi anche qui che è un po' il motivo per cui dovrebbero essersi un po' arrabbiati con Quadrado perché anche ieri mi hanno chiesto mi hanno detto sì però perché la Juve si arrabbia per Quadrado a 5 milioni ma offre 7 a Di Maria proprio per questo per il discorso legato all'ordo con il decreto crescita si va un po' a creare confusione sotto questo punto di vista perché banalmente anche Rams e Irabio alla Juve prendano 7 milioni e mezzo di euro all'anno netti ma sul lordo non sono 15 sono meno e infatti dovremmo tutti abituarci a ragionare semplicemente sul lordo perché si vengono a creare se no delle differenze di valutazioni a livello di quello che riconosce la società che alla fine creano anche dei falsi miti purtroppo si ragiona molto spesso sul netto perché è più facile si sa che quel giocatore guadagna tot però non sappiamo se col decreto crescita o senza e quindi ovviamente i conti saltano ad ogni modo la Juventus secondo Gazzetta secondo Fabiana della Valle avrebbe aumentato avrebbe pronta una nuova offerta per Di Maria con una parte di bonus più pesante più cicciosa e con una parte fissa più bassa per arrivare davvero a quei 7 e mezzo però per arrivare a quei 7 e mezzo Anghel devi sbloccare determinati obiettivi che ti faranno poi arrivare a guadagnarli se sblocchi tutti gli obiettivi te li meriti e te li prendi penso che sia anche giusto così per un giocatore che vuole un solo anno di contratto inizia ad avere una carta d'entità abbastanza ingiallita tra l'altro sempre Gazzetta sempre Fabiana parla ancora di Kostic fanno ancora questo nome dicendo che all'interno del tridente Allegri lo vedrebbe bene ovviamente Federico Chiesa un giorno tornerà per fortuna da questo infortunio che si prenda tutto il tempo del mondo magari ci sarà proprio Kostic a farne le veci fino a che Chiesa non sarà completamente recuperato ma Fede recupera tranquillo non vogliamo ricadute vogliamo averti pronto per quando tornerai quindi Kostic che era uno di quei nomi che sembrava buttato nel dimenticatoio in realtà a quanto pare sembra un nome confermato secondo Gazzetta e la Juventus sta lavorando davvero su Kostic che nel frattempo dovrebbe aver ricevuto una proposta di prolungamento contratto dalla sua squadra che è questa dall'Eintracht Francoforte dato che la cifra per l'acquisizione di Kostic era molto bassa proprio perché era in scadenza l'Eintracht giustamente dice allora gli rinnovo il contratto così posso chiedere un po' di più però se il ragazzo poi sarà interessato a venire alla Juve allora sarà un altro paio di mani che se la Juve presenterà l'offerta probabilmente questo rinnovo potrebbe non concretizzarsi e tra l'altro attenzione perché non so se ve l'avevo già detto ieri Paul Pogba pronto ormai prossimo tornare alla Juventus secondo tutti tutti quelli che hanno notizie dovrebbe potrebbe vestire nuovamente la maglia numero 10 io ho già fatto un video riguardo su questa cosa non sono particolarmente d'accordo lo trovate sul canale se siete interessati ad approfondire l'argomento concludo con una notizia riportata ieri sera da Sky Sport e Gianluca Di Marzio sempre in renta a Morata sempre in renta all'Atletico sempre in renta al riscatto quella famosa offerta di 15 più 6 oppure l'inserimento di Moise Ken ora fermi un secondo la Juventus non vuole riscattare a Morata perché costerebbe 35 milioni di euro e fino a qua ci siamo Moise Ken l'anno prossimo diventerà obbligo di riscatto per un totale di 38 anche qui ci siamo significa che la Juve ora lo dovrà riscattare per inserirlo nella trattativa perché non può inserire nella trattativa un giocatore che non è tuo bensì in prestito dall'Everton e quindi per riscattarlo ti serviranno circa 35 milioni di euro e lo dai l'Atletico per Morata che costa 35 quando non gli volevi dare 35 eh cioè nel senso il senso di questa cosa a meno che non ci siano due strade la Juve non sappia dove sbolognare Ken e quindi preferisce riscattarlo e poi prendere Morata ma stiamo parlando di un 92 contro un 2000 attenzione eh attenzione pagare 35 milioni di euro un 92 dando in cambio un 2000 che per quanto in questa stagione non si sia dimostrato all'altezza rimane sempre un giocatore con ben 8 anni di carriera in più da poter disputare in questo momento occhio attenzione cose sempre rischiose oppure in alternativa la Juventus lo riscatta lo inserisce nella trattativa per Morata e l'Atletico in cambio dà dei soldi alla Juventus ma questa mi sembra l'opzione più paradossale più distante dalla realtà perché se in questo momento noi stiamo cercando di risparmiare l'Atletico invece vuole i soldi vedo abbastanza complicato il fatto che sia l'Atletico poi a pagare noi mi sembra sarebbe la mossa dell'anno sarebbe la trattativa più bella della storia riscatto Ken lo inserisco per Morata Morata lo piglio gratis l'Atletico mi aggiunge una roba tipo 25 20 milioni di euro sarebbe proprio un incastro meraviglioso lo vedo abbastanza distante dalla realtà e anche perché delle due allora davvero magari loro si prendono di bala e si tengono Morata e hanno fatto di bala Morata invece che Moise Ken Moise Ken di Maria non lo so si sta parlando di tanti nomi davanti a questo punto mi viene da dire non desperto del mercato spagnolo non desperto del mercato dell'Atletico Madrid credo mi sento di dire che il ciolo si non abbia bisogno di un attaccante poi con che caratteristiche non lo so perché Moise Ken di bala di Maria sono tutti diversi ma a quanto pare cercano un giocatore là davanti e questi ragazzi sono diversi argomenti di mercato che sembrano davvero tutti collegati allo stesso filo quindi di Maria di bala la Juventus l'Atletico il Barcellona l'Inter stessa che ieri abbiamo detto essere interessata a quadrado c'è roba veramente dell'altro mondo se quadrado di bala vanno all'Inter non so più cos'è reale ma ormai l'Inter ha preso questa strada l'anno prossimo giocheranno l'UV20 Stadium probabilmente perché se continuiamo così Agnelli sarà il presidente robe di questo tipo vediamo che cosa succede una sola cosa è certa che in questo momento nella mia testa c'è una confusione allucinante e fare questi video mi aiuta a cercare di mettere un po' in ordine le cose perché siamo costantemente bombardati da milioni e milioni di informazioni tutti i giorni e dobbiamo cercare di capire tramite il ragionamento prima di ascoltare ovviamente le notizie degli esperti che cosa possa corrispondere a verità e che cosa invece è semplicemente una chiacchiera lanciata nell'Internet all'inizio c'è un po' in ordine